È abbastanza incredibile, ma non inusuale, quanto è accaduto ieri al centro congressi di Ariano Irpino, quando migliaia di persone vengono concentrate nello stesso luogo e più o meno tutte alla stessa ora il rischio di problemi, di disfunzioni è sempre dietro l'angolo, ma quanto è accaduto ieri ad Ariano non è proprio uno spiacevole disservizio, come scrive il Comune di Avellino, è una minimizzazione che stride con le immagini del caos che ci sono passate davanti per tutta la giornata di ieri, ci saranno stati, ed è tutto da dimostrare, atteggiamenti e comportamenti di persone, evidentemente concorrenti, che si sarebbero insubordinate e di fatto avrebbero sabotato il corretto svolgimento delle prove, ma quelle stesse persone protestavano perché alle prove non veniva garantito il requisito della segredezza e della imparzialità, la storia forse cambia di parecchio, avevano una sola fotocopiatrice e nessuno ha detto a fotocopiare, per cui la Commissione ha chiamato alcuni dei concorrenti a fotocopiare i testi che sarebbero poi stati distribuiti ai concorrenti. Se così è andata è chiaro e comprensibile che qualcuno e più di uno tra i concorrenti abbia detto ma che cosa state facendo? Il Comune dice di essere alla ricerca di eventuali errori procedurali e responsabilità da parte di chiunque, toglierei eventuali, chi li ha commessi si vedrà, ma è certo che si sono concretizzati e esplosi plasticamente senza bisogno dell'onere della prova. Si possono portare 3 mila persone in un luogo senza sufficienti parcheggi e sembra senza neanche un posto auto per i diversamente abili, un posto con appena tre bagni senza il sufficiente personale di supporto, senza che, come dicono le forze dell'ordine, la pulizia municipale, il 118 sapessero niente. Sono domande queste che non vanno fatte al Sindaco di Avellino, semmai è da verificare se il Sindaco di Avellino preventivamente queste domande, come è logico ritenere, le abbia fatte alla società incaricata della gestione della prova concorsuale. La certezza per ora è quella di una pessima, nerissima giornata a cui si accompagna il teatrino dell'indignazione. Grazie.